Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe all'inizio. Era figlio di due attori, aveva un fratello maggiore e una sorella minore. Rimasto orfano piccolissimo, Poe fu accolto in casa di John Allan, un mercante scozzese della Virginia che gli diede il nome di Edgar Allan Poe. La famiglia Allan, insieme a Edgar, si trasferirono in Gran Bretagna dove frequentò Edgar un collegio con accanto un cimitero. Pensate un po', e il preside del collegio insegnava matematica tra le tombe. Ogni ragazzo doveva scegliere una lapide e calcolare l'età del defunto. Il primo giorno di scuola veniva dato poi ad ogni ragazzo una piccola pala di legno con cui bisognava scavare le fosse di chi moriva nel periodo scolastico. Poe è stato l'iniziatore del racconto poliziesco della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico. Scrisse storie di fantascienza e avventura. Poeta romantico anticipò il simbolismo e il maledettismo.